Nel corso dell'attività a febbraio del 2019, intercettando una base logistica proprio qui a Pontassieve, abbiamo rinvenuto oltre al chilo di cocaina ben 5 pistole, tra l'altro tutte pronte all'uso perché munite anche di regolare il munizionamento. 5 pistole pronte all'uso e un chilo di cocaina sequestrate. Il bilancio dell'operazione 555 è condotta dagli uomini della compagnia dei carabinieri di Pontassieve che hanno sgominato una banda di albanesi dedita a furti in abitazioni per poi investire i proventi in droga. Sei gli indagati, tutti albanesi, per cui è stato disposto un provvedimento cautelare dal giudice per le indagini preliminari Gianluca Mancuso su richiesta della procura distrittuale antimafia fiorentina per 5 custodia cautelare in carcere e per 1 al divieto di dimora nella provincia di Firenze. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di articolate indagini dirette dal sostituto procuratore Giulio Monferini. L'operazione è stata eseguita con il supporto delle compagnie dei carabinieri di Signa, San Giovanni Valdarno e Firenze con l'ausilio di unità cinofile per la ricerca di droga e armi del nucleo cinofili di Firenze. L'operazione prende il nome dalla targa di uno dei veicoli che era in uso a questa batteria e l'attività ha preso le mosse da un furto in abitazione avvenuto a Pelago il 1 novembre 2018 quando già fu arrestato in flagranza un giovane albanese, tra l'altro arrivato in Italia il giorno prima. Sono stati sei mesi di indagini intense che ci hanno consentito di ricostruire almeno una decina di furti avvenuti tutti nella provincia di Firenze, operati da batterie modulari, quindi con soggetti intercambiabili fra loro alcuni dei quali tra l'altro arrivavano in Italia per poche settimane per poi ripartire. I proventi venivano reinvestiti nell'acquisto di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana.